Prego, consigliere Iacovella, le ricordo i tempi, due minuti a disposizione più l'eventuale dichiarazione di voto. Prego. Sì, grazie, sarò breve. Mi ero ripromesso di non intervenire più, perché ogni volta che comunque intervengo in qualche modo mi arrabbio più forte di me, non riesco a trattenere. Però io noto una cosa, e quindi esco dai canoni e dai parametri che ho sentito dire, perché comunque le argomentazioni sono state trattate in un modo o nell'altro, sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Volevo solo far notare una cosa, oggi abbiamo provato a trovare il modo di costruire un dialogo, poi abbiamo visto come è andata a finire, che questo dialogo in realtà è solo sbandierato e non è mai effettivo. Però la cosa che da noia su questo su questa faccenda è il fatto che lunedì scorso è stata presentata in Commissione questa delibera, oggi ci troviamo a votare una delibera, che sicuramente avrete al vostro interno valutato, condiviso. Però evitate di prenderci in giro, non ci trattate da fessi, scusate il termine, perché è inutile che continuate ad arrampicarvi sugli specchi e cercare di dare una giustificazione su un'operazione che è evidentemente una speculazione immobiliare. Perché 50 milioni di euro per 320 appartamenti sono 156 mila euro ad appartamento. Non esistono a Cesena 320 appartamenti sfitti che il Comune potrebbe dare a queste 400 famiglie e pagare l'affitto con quei 50 milioni di euro per dare sollievo a queste 400 famiglie che si è parlato prima di sfratti. Sono due cose diverse. È esattamente quello che state facendo. Una speculazione immobiliare, utilizzando soldi pubblici, ricordo che cassa di deposito e prestiti sono niente altro che i buoni postali degli italiani, 10 milioni del Comune di Cesena che comunque verranno dati in questa gestione e continuiamo a girare intorno a un problema chiamato social housing, quello che social housing non è. Allora, dite le cose come stanno, saremo più contenti. Chiaramente non siamo d'accordo perché si è visto, però essere presi in giro è proprio così. Grazie consigliere Jacovella. Ho utilizzato i due minuti a disposizione del gruppo Movimento 5 Stelle Cesena.